Giovani o anziani, amiamo i nostri capelli, non è vero? La condizione dei capelli gioca un ruolo decisivo nello stile del tuo look. Purtroppo la caduta dei capelli è un problema di cui soffrono molte persone. I fattori alla base della caduta dei capelli possono essere diversi, effetti ambientali, invecchiamento, stress eccessivo, fumo eccessivo, carenze nutrizionali, squilibri ormonali, fattori genetici, eccetera. Sul cuoio capelluto ci sono circa 100.000 ciocche di capelli ed è considerato normale perderne da 50 a 100 al giorno. Ma quando cominci a perderne di più è il momento di prendere provvedimenti per evitare che la calvizie o le chiazze di capelli si trasformino in calvizie. Per trattare la caduta dei capelli in casa si possono utilizzare molti ingredienti facilmente reperibili. 1. Massaggio con olio per capelli. Il primo passo che puoi fare per ridurre la caduta dei capelli è massaggiare il cuoio capelluto con un olio per capelli appropriato. Un massaggio adeguato ai capelli e al cuoio capelluto aumenterà il flusso sanguigno verso i follicoli piliferi. Inoltre favorisce il rilassamento e riduce la sensazione di stress. Puoi utilizzare oli per capelli come l'olio di cocco o di mandorle, l'olio d'oliva, l'olio di ricino, l'olio di amla o altri ancora. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di rosmarino all'olio di base per ottenere risultati migliori e più rapidi. 2. Fieno greco. Il fieno greco, noto anche come meti, è molto efficace nel trattamento della caduta dei capelli. I semi di fieno greco contengono sostanze ormonali che favoriscono la crescita dei capelli e aiutano a ricostruire i follicoli piliferi. Contengono inoltre sostanze che stimolano la crescita dei capelli. Metti a bagno una tazza di semi di fieno greco in acqua per una notte. Al mattino macinali per ottenere una pasta. Applica la pasta sui capelli e copri con una cuffia da doccia. Dopo circa 40 minuti risciacqua i capelli. Segui questo rimedio ogni mattina per un mese. 3. Succo di cipolla. Il succo di cipolla aiuta a curare la caduta dei capelli grazie al suo alto contenuto di zolfo che aiuta a migliorare la circolazione del sangue verso i follicoli piliferi e a rigenerarli. Estrai il succo di una cipolla grattugiandola e poi filtrando. Applica il succo direttamente sul cuoio capelluto. Lascialo in posa per circa 30 minuti e poi lavalo via. Infine fai uno shampoo ai capelli. Ripeti questa procedura due o tre volte alla settimana per diverse settimane. 4. Aloe vera. L'aloe vera contiene enzimi che facilitano direttamente la crescita di capelli sani. L'uso regolare può anche alleviare il prurito del cuoio capelluto, ridurre gli arrostamenti e le infiammazioni, aggiungere forza e lucentezza ai capelli e diminuire la forfora. Funzionano sia il gel che il succo di aloe vera. 5. Latte di cocco. Il latte di cocco è ricco di proteine e grassi essenziali che favoriscono la crescita dei capelli e ne prevengono la caduta. Se applicato sui capelli, il latte di cocco offre risultati rapidi. Applica il latte sul cuoio capelluto e sui capelli. Lascialo in posa per circa 20 minuti e poi fai lo shampoo. Per rendere il trattamento più efficace, puoi mescolare al latte di cocco, pepe nero e semi di fieno greco in polvere prima di utilizzarlo. 6. Radice di liquirizia. Le proprietà calmanti delle radici di liquirizia aprono i pori, leniscono il cuoio capelluto e aiutano a sbarazzarsi delle irritazioni e delle scaglie secche. Questo rimedio è ottimo per la forfora, la perdita di capelli e la calvizie. Aggiungi un cucchiaio di radice di liquirizia macinata a una tazza di latte con un quarto di cucchiaino di zafferano. Mescola accuratamente. Applica la pasta sulle zone calve al momento di andare a letto e lasciala agire per tutta la notte. Al mattino lava i capelli. Se il video ti è piaciuto, metti un pollice in su e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi altre ricette e consigli, iscriviti al canale.